Le politiche di coesione sono state al centro dell'incontro a Bruxelles fra il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker e una delegazione della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime, formata dal presidente della Toscana Enrico Rossi e dai presidenti di altre quattro regioni, Azzorre, Bretagna, Fasterbotten e Mecklenburg-Vorpemmer. Rossi, che attualmente presiede la conferenza, ha chiesto a Juncker rassicurazioni sul futuro del bilancio europeo e dei fondi strutturali, alla luce di documenti che invece parlano di tagli ai fondi per le politiche di coesione. Quelle stesse politiche che hanno consentito di creare in Toscana, ad esempio, 45.000 posti di lavoro dalle 2007 alle 2013, oppure distanziare dalle 2014 alle 2020 250 milioni di euro per i giovani, finanziando 500 nuove imprese e sostenendo 700 giovani imprenditori agricoli. Abbiamo avuto l'impegno che il presidente Juncker mette per riproporre le politiche di coesione anche per il futuro. Tuttavia è evidente che in questa situazione non può garantirle. Io credo che il punto fondamentale è che l'Europa si rafforzi anche attraverso entrate proprie nel bilancio. Altrimenti c'è il rischio che le politiche di coesione si riducono per fare politiche per la sicurezza, politiche per l'immigrazione, politiche anche per il consolidamento della moneta europea e dei bilanci e questo sarebbe ingiusto. Secondo Rossi non è possibile una gestione regionale delle politiche di investimento, ricerca e innovazione separata dalle politiche di sostegno dell'occupazione e delle emergenze sociali. Se questo avvenisse, un progetto come quello di Giovani Si della regione toscana dovrebbe essere depennato. L'Europa è come una bicicletta che ha due ruote. Da un lato è l'Europa dei mercati, della concorrenza, della competizione e dall'altro è l'Europa delle politiche di coesione, delle politiche sociali, delle politiche per lo sviluppo, delle politiche per la parte più debole della società europea, per i territori più deboli. Se la seconda ruota, quella della coesione sociale, si riduce l'Europa non correrà più forte. Nei prossimi mesi, quindi, le regioni si batteranno in Europa per le politiche di coesione.